Tra le carte igieniche a due veri, carta igienica Scottex vince in convenienza perché ha molta, moltissima carta. Ma chi la sceglie lo fa anche per la sua morbidezza perché carta igienica Scottex è morbida, morbida, dieci piani di morbidezza e da oggi è nel nuovo formato da dieci rotoli. Carta igienica Scottex, dieci piani di morbidezza, dieci rotoli di convenienza. Grazie.